Ecco, parliamo di militare. Tu, Ticinese Medio, quali sono i tuoi rapporti con il militare? I cinesi sono bravi soldati. Bene, bene, benone. I cinesi sono bravi soldati, i cinesi sono bravi soldati. E tutta la notte ti senti l'aggium, moltina bella, viva l'amor. L'amor, 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 ti, padre anche del Capitano. All'è un giro come matta cerca il suo umano. E tu, Ticinese Medio, da disi nagut. I cinesi sono bravi soldati. E me devo mandare il terrore a San Bernardino. Ah, beh, con sei complet, con c'è un po' di blancio, abbiamo un blancio, un blancio, un blancio, quel cuofo, eh, può che tenne un altro, no? C'è un po' di parla, una brancata, e gnam gnam, 40 di fibra, può che tenne un altro! Di cinesi? Sono bravi, soldati. Ti, per mi guarda, il cor da ripetizione è una vacanza, ma sta lì diventavato per chi? Per la patria! Dai, dai, dai! Di cinesi? Sono bravi, soldati. Che ritas que l'arreglo di te, a che aveva un sergent maggior, al capione amazza d'Italian, ha parlato ma tu d'esca, sto pooret, dopo capino i di cinesi, a facevam sempre apparenza da capina god, no? Insomma, te li si metteva lì, a faceva, testine, schaffe, eh, e nu, niente capito, pirloni! E l'u te, io, 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 che ritè? Di cinesi? Sono bravi, soldati. E nu, mi sono cinese, quando va fuori all'interno del canton, ma si. E che fuori un maggior, e fa un discorso solo al Man Bertucci, per cui che parla romanzo, per cui che parla italiano, e per cui che parla tedesco. Un solficio, su tedesco. Offiziere, sottofiziere, un soldate, in essere contenti, un soffriden, con oirem esercizi, avresti noc an parte tali di apposche in müssen, a per divertire, da settimana che vengono, sono bosche! Di libera, uscank! Mi sono fai un quasi zero, zero! Bella che è stata te, ma ti qua stasera da militare? Caporal? 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 Caporal in Riva? Per UBD e per comandare? Su! Disteggamento! Fuori dal palco! E voi? Sareste disposti a firmare l'iniziativa per l'abolizione dell'esercito? Sareste disposti a firmare l'iniziativa per l'iniziativa per l'iniziativa per l'iniziativa per l'iniziativa!